Oggi voglio presentarvi Ora Gioco, primo torneo nazionale tra le parrocchie di FIFA 2020, un'iniziativa ludico-culturale promossa dalla Fondazione Children Media, dall'Università del Videogioco Udav e dal sottoscritto soprannominato Padre Joystick. Ho bisogno però del tuo aiuto, ho bisogno del tuo sostegno per trasformare la tua casa e la tua piazza in oratorio. Iscriviti a Ora Gioco e facciamo in modo che la tua parrocchia sia la piattaforma digitale dove poter difendere i versilli e i colori della tua città. Aspetto te per divertirci e per lo stare insieme.